Buonasera e benvenuti al diario di Papa Francesco, benvenuta Rosanna Virgini, biblista e insegna all'Istituto Teologico Marchigiano. Come ogni lunedì il nostro racconto comincia dall'Angelus, dalla riflessione fatta da Papa Francesco. Ieri era una festa importante, quella del Battesimo del Signore. Sentiamo le parole del Papa. Il popolo va a farsi battessare con umiltà, con sincerità, come dice la liturgia, con l'anima e i piedi nudi. E anche Gesù ci va, inaugurando il suo ministero. Mostra così di voler stare vicino ai pecatori, di essere venuto per loro, per noi tutti che siamo pecatori. Giovanni Battesta dice qualcosa di insolito, riconoscendo pubblicamente Gesù apparentemente uguale a tutti gli altri, uno più forte di Lui, che battesseranno lo Spirito Santo. Poi si aprono i cieli, lo Spirito Santo scende su Gesù come una colomba e dall'alto la voce del Padre proclama, tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. tutto questo se da una parte ci rivela che Gesù è il figlio di Dio, di un'altra parte ci parla del nostro Battesimo, che ci ha resi a nostra volta figli di Dio, perché il Battesimo ci fa figli di Dio. Il Battesimo è Dio che viene in noi, purifica, guarisce il nostro cuore, ci fa Sui figli per sempre, Suo popolo, Sua famiglia, il Battesimo. E Dio diviene intimo a noi e non se ne va più. E possiamo chiederci, io sono consapevole del dono immenso che porto in me per il Battesimo? Riconosco nella mia vita la luce della presenza di Dio che mi vede come suo figlio amato, come sua figlia amata? Proviamo a capire bene che cosa abbiamo celebrato ieri. Ma perché intanto Gesù si fa battezzare dal Battista? La gente andava a ascoltare questo profeta con atteggiamento penitenziale perché era annunciato l'arrivo del giudizio sostanzialmente e Gesù va a farsi battezzare. Il Battesimo di Gesù ha sempre acceso, diciamo, delle domande, degli interrogativi. Perché per noi il Battesimo, per i cristiani cattolici, significa essere innestati nel corpo morto e risorto di Gesù e quindi liberati da quel peccato originale, o meglio, resta comunque il segno però, non più sottomessi a quella mancanza, a quella caduta di Adamo. E allora Gesù, appunto, le scritture dicono, invece si è fatto uomo in tutto simile, appunto, agli esseri umani, tranne che nel peccato. Quindi noi diciamo, ma che bisogno ha Gesù di farsi battezzare? Il Battesimo di Giovanni è un battesimo diverso da quello cristiano. Giovanni, giustamente come diceva lei, è un profeta, diciamo, di Israele che ricorda quelli che si consideravano essendo circoncisi, perché i fratelli ebrei avevano la circoncisione per essere salvati, d'accordo? Venivano considerati, diciamo così, eletti in quanto circoncisi. Ma questo non bastava. Allora Giovanni diceva loro, vi dovete convertire, nel senso che non pensiate di essere giusti, di essere salvati da Dio, solo perché, no? Come dire, siete stati circoncisi quella volta. No, dovete fare veramente degni frutti di conversione. Quindi quando Gesù va davvero a farsi battezzare di Giovanni, mi sembra di poter dire che lui si è incarnato, è il figlio di Dio, certo, ma Gesù è un greo. Gesù è qualcuno che si incarna nella storia e che fa propria la storia, la strada, perché no? Le difficoltà, le debolezze, anche il peccato, appunto, di tutto il popolo. Quindi è un segno d'amore, un segno di condivisione, un segno di incarnazione profondo da parte di Gesù. Questo essere anche lui, diciamo, dentro, questo grande gruppo possiamo immaginare di peccatori. Giovanni li chiamava razza di vipere, addirittura quelli che andavano a farsi battezzare da lui. La seconda ed ultima cosa, se mi posso permettere velocissimamente, però vediamo che poi questo battesimo rivelerà allo stesso battezzatore la verità di Gesù, perché sarà in quel momento che Giovanni dice, ma come, tu vieni a farti battezzare, no? Tu sei più avanti a me. Questo è molto bello, che addirittura chi battezza, Giovanni che giudicava naturalmente le persone che battezzavano, in realtà viene giudicato a sua volta da Gesù. E Dio si rivela dicendo a Gesù, di Gesù, su Gesù, questo è il mio figlio di letto, appunto, in cui mi sono compiaciuto. Veniamo al nostro battesimo, che il Papa ci ricorda in questa riflessione. Dice, il battesimo ci fa figli di Dio. È una formula che abbiamo sentito tante volte, però sentiamo anche, lo stesso Francesco scrive un'enciclica, fratelli tutti, cioè figli tutti. E allora che cosa significa? Se siamo figli tutti, a prescindere dal battesimo, che significa dire che il battesimo ci fa figli di Dio? Ecco, la ringrazio per questa domanda perché è molto acuta, molto intelligente e pertinente. Nella Fratelli tutti c'è una cosa straordinaria, in realtà, quello che in fondo lei diceva, cioè che il Papa dice siamo tutti figli. E quindi, come dire, il suo guardare l'umanità in quella enciclica non parte dall'alto, ma parte dal basso. Tutti siamo figli e quindi poi magari ognuno ha, no? Popoli diversi nel mondo hanno i loro dei, hanno anche i loro dei che chiamano i loro padri, d'accordo? Ognuno magari. E lei sa che nell'enciclica appunto i fratelli tutti sono quelli che appartengono a varie religioni, i laici, i non credenti, eccetera. Quindi davvero questa figliolanza è assolutamente universale. Quindi in senso, possiamo dire, generico, certamente siamo tutti figli di Dio prima del battesimo. Il motivo per cui nella dottrina cattolica noi diciamo si diventa figli di Dio con il battesimo è questo, la particolarità, che con il battesimo in realtà tutti noi che siamo figli di Dio, Adamo è un figlio di Dio, insomma è una creatura di Dio, quindi diciamo così siamo esseri umani, no? Tutti creature di Dio, otteniamo nella resurrezione del Signore, in questo figlio di Dio, che però ha cambiato la sorte dell'umanità che era mortale. Perché essendo esseri umani, creature, figli, noi siamo mortali, siamo sottoposti alla morte. Con il battesimo invece, siccome questo Gesù è risorto, tutti i battezzati sono già anche risorti con Cristo. E in quanto tali noi diventiamo... Significa che saranno gli unici ad avere la vita eterna? Assolutamente, chi lo può dire questo? Chi lo può dire? Perché tra l'altro? Perché comunque non basta, come dire, il battesimo già ci radica... Torniamo al discorso di Giovanni. Esatto, benissimo, perfetto, lei capisce al volo, non occorre che spieghi ulteriormente. Quindi lo diceva sia Benedetto XVI in una vecchia bellissima lezione sul battesimo, sia il Papa Francesco, appunto, ieri, che in realtà il battesimo è un cammino. Infatti il Papa parlava di riconoscere, no? Certamente, riconoscere e poi crescere, assolutamente, perché si può dimenticare il battesimo. A proposito di Benedetto XVI, Francesco l'ha citato ancora una volta proprio nella Messa della solennità dell'Epifania e ha preso in prestito una riflessione di Benedetto a proposito sui Maggi, a proposito dei Maggi e della speranza. Ascoltiamo questo passaggio. Il dono della fede non ci è dato per restare a fissare il cielo, ma per camminare sulle strade del mondo, come testimoni del Vangelo. Il Dio che viene a visitarci non lo troviamo, restando fermi in qualche bella teoria religiosa, ma solo mettendoci in cammino, cercando i segni della sua presenza nella realtà di ogni giorno e soprattutto incontrando e toccando la carna dei fideli. Contemplare Dio è bello, ma soltanto è fecondo se noi rischiamo. Il rischio del servizio è di portare Dio. Questo è importante. Incontrare Dio in carne e ossa, nei volti che ogni giorno ci passano accanto, specialmente quelli dei più poveri. I Maggi, infatti, ci insegnano che l'incontro con Dio sempre ci apre una speranza più grande, che ci fa cambiare stile di vita e ci fa trasformare il mondo. Benedetto XVI affermava «Se manca la vera speranza, si cerca la felicità nell'ebbrezza, nel superfluo, negli eccessi, e si rovina se stessi e il mondo». Per questo c'è bisogno di uomini che nutrano una grande speranza e possiedono perciò molto coraggio. Il coraggio dei Maggi, che intrappressero un lungo viaggio seguendo una stella e che seppero inginocchiarsi davanti a un bambino e offrirgli il loro prezioso. Tutto quest'ultimo brano che abbiamo ascoltato è tutta una citazione di Benedetto XVI e vorrei fermarmi proprio su questo, non tanto sui Maggi, quanto sul rapporto tra Francesco e Benedetto, sugli elementi di continuità e di discontinuità, perché di questo ti sei occupata nel tuo ultimo libro Benedetto e Francesco, due papi diversi ma mai divisi. questo è il sottotitolo. Intanto mi incolpisce questo diversi ma mai divisi, perché insomma questo è un libro che tocca una questione di grande attualità che è stata sicuramente nel decennio di convivenza tra Francesco e Benedetto, ma dura ancora oggi, perché molti la raccontano, questa esperienza, queste due figure, come contrapposte. Sì, dunque, posso fare degli esempi, ne posso fare uno sul battesimo proprio, sulla loro diversità, ma appunto comunione, anche dal punto di vista direi, si può dire intellettuale in un certo senso. Pensiamo al battesimo. appunto in una lezione che il papa Ratzinger fece sul battesimo, penso ormai 12 anni fa, era ancora papa, beh, lui disse che, no, prima, era prima evidentemente, non era, era ancora papa, ma quindi più di 11 anni fa, e lui paragonava, no, il simbolo dell'acqua, appunto, a un momento di immersione nella morte, lui diceva, cioè bisogna purificarsi, bisogna morire... Al peccato. Al peccato, e interpretava il peccato, le seduzioni del male che vengono, no, ad essere rinunciate nelle formule battesimali, quindi, no, rinunci a Satana, rinunci alle seduzioni del male, lui le interpretava così. Che cos'è la seduzione del male? La seduzione del male è la violenza, è fare la guerra, e pensi come papa Francesco, invece, non so, quell'acqua, l'ha interpretata, la intende, in senso invece positivo, sorgivo, fecondo, di vita che rinasce, morte e vita, e parla di pace, no, è il grande davvero apostolo, possiamo dire oggi, della pace, papa Francesco. Quindi, questi due papi, in realtà, l'uno magari, che ha usato il linguaggio più teologico, l'altro più pastorale, ma, hanno annunciato lo stesso Vangelo, stanno, continuano ad annunciare lo stesso Vangelo, e quindi, la loro diversità è complementarietà, io la trovo assolutamente così, potrei adesso parlare anche di altro, se avessimo tempo, per esempio, rispetto al sviluppo, diciamo così, all'elaborazione, al fatto che la Chiesa potesse continuare, la Chiesa Cattolica, sulla via aperta e tracciata dal Concilio Vaticano II, il papa Ratzinger, quando si dimise le ragioni per cui lo fece, lui le proclamò, diciamo, le confessò, erano queste, mi accorgo di non avere più il vigore, né fisico, né proprio dell'anima, diciamo così, spirituale, per poter abbracciare e affrontare le sfide del mondo contemporaneo, beh, questo è il Concilio che ha aperto questa strada, cioè, che ha dato alla Chiesa proprio questo compito di porsi dinanzi alle sfide del mondo contemporaneo e di poter tradurre per il mondo contemporaneo il messaggio appunto evangelico e questo, chi ha raccolto in realtà poi questo impegno? L'ha raccolto perché lui dice io lascio a qualcun altro il compito e prego e il resto accanto nella preghiera. Questo ci ha dato credo alla Chiesa davvero qualcosa di unico nella sua storia penso adesso parlo della Chiesa Cattolica cioè che il Papa sì certo per ragioni ecclesiali diciamo di ragioni legate alla come si costituisce la Chiesa d'accordo? È una figura unica che rappresenta il vicario di Cristo ma teologicamente cristologicamente ecclesialmente la figura del Papa è una figura che sta lì dove è il discepolo e poi l'apostolo di Gesù Gesù dice così dove due o più sono riuniti nel mio nome lì ci sarò io cioè non esiste una persona sola un individuo solo a testimoniare il Vangelo tantomeno il Papa quindi quando noi abbiamo avuto in questi dieci anni un Papa emerito e un Papa regnante certo i loro ruoli erano diversi il Papa era uno ma il Papa era uno ma la comunione era due o più rappresentata e poi l'hanno testimoniata questo entrambi in varie occasioni hai parlato anche del tema della pace come uno dei temi sicuramente in cui la Chiesa e i Papi del Novecento sono stati in prima linea e in particolare oggi il Papa incontrando il corpo diplomatico accreditato verso la Santa Sede ha citato le parole di Pio XII per ricordare come questo disgusto in fondo della guerra frutto dell'esperienza drammatica della seconda guerra mondiale abbia avuto un'energia che via via è svanita e oggi dice Francesco siamo dentro una terza guerra mondiale ascoltiamo le parole del Papa le guerre moderne non si svolgono più solo sui campi di battaglia delimitati ne riguardano solamente i soldati in un contesto in cui sembra non essere osservato più il discernimento tra oggettivi militari e civili non c'è conflitto che non finisca in qualche modo per colpire indiscriminatamente la popolazione civile gli avvenimenti in Ucraina e a Gaza ne sono la prova evidente non dobbiamo dimenticare che le violazioni gravi del diritto internazionale umanitario sono crimini di guerra e che non è sufficiente rilevarli ma è necessario prevenirli occorre dunque maggiore impegno della comunità internazionale per la salvaguarda e l'implementazione del diritto umanitario che sembra essere l'unica via per la tutela della dignità umana in situazione di scontro bellico anche quando si tratta di esercitare il diritto alla legittima difesa è indispensabile attenersi a un uso proporzionato della forza forse non ci rendiamo conto che le vittime civili non sono danni collaterali sono uomini e donne con nomi e cognomi che perdono la vita sono bambini che rimangono orfani e privati del futuro sono persone che soffrono la fame la sette il freddo che rimangono mutilate a causa della potenza delle ordini moderni d'altra parte le guerre possono proseguire grazie all'enorme disponibilità di armi occorre perseguire una politica di disarmo poiché è illusorio pensare che gli armamenti abbiano un valore deterrente piuttosto è vero il contrario la disponibilità di armi ne incentiva l'uso e ne incrementa la produzione le armi creano sfiducia e distolgono risorse quante vite si potrebbero salvare con le risorse oggi destinati all'armamento non serve meglio investire in favore di una vera sicurezza globale saluto collegato con noi Andrea Monda direttore dell'osservatore romano ciao Andrea ciao buongiorno buongiorno a tutti intanto mi pare che il discorso parta da una doppia constatazione da un lato la fine di una spinta di rinnovamento venuta dopo la seconda guerra mondiale almeno in Europa di un no alla guerra e dall'altro la constatazione che le guerre moderne finiscono per essere sempre crimini di guerra in qualche modo sì quella spinta propulsiva ideale direi anche spirituale il Papa l'ha citata tante volte che aveva costruito l'Europa aveva costruito la pace sembra essersi esaurita e questa è la prima cosa e quindi ancora una volta il registrare questo amaro dato e dall'altro ancora non solo amaro ma tragico dettaglio che le guerre sono oggi appunto oltre i campi di battaglia delimitati sono dappertutto e colpiscono indistintamente a me colpisce che la parola in inglese per dire le vittime le vittime collaterali si dice casualties questa parola casualties dell'idea della casualità il Papa si ribella a questo il Papa come ogni uomo si ribella da voce alla voce di ogni uomo che dice non è possibile che la vita di un uomo sia una casualità la vita e la morte quindi di un uomo sia una casualità non è concepibile oggi più che mai e ci ricorda quello che ha sempre fatto Papa Francesco le persone hanno una dignità per cui bisognava dargli occhio nell'occhio faccia a faccia e allora riconoscere quella storia e quella dignità abbiamo pochissimo tempo però vorrei soffermarmi anche come dire sulla parte propositiva perché il Papa comunque cerca di dare lui una spinta nuova verso un cammino di pace e lo fa da un lato proponendo ancora una volta il multilateralismo l'intervento delle Nazioni Unite degli organi sovranazionali e dall'altro citando una serie di questioni che sono poi alla base delle guerre la produzione di armi l'ingiustizia i cambiamenti climatici e tutto ciò che viene pagato a causa di questo sì multilateralismo ha detto benissimo per cui lui ha parlato proprio di salvaguardia e di implementazione del diritto umanitario che è legato anche a queste situazioni per cui le guerre ormai sono dappertutto e fanno mietono vittime civili e poi andare a vedere tutte quelle tutte quelle cause che poi sono cause effetto le hai citati tu e innanzitutto il tema del disarmo il Papa ci ricorda che ogni conflitto ha delle radici e ha degli interessi quindi bisogna vedere come nascono e verso dove si dirigono e bisogna andare lì quindi alle sorgenti e togliere e togliere come dire quella quella linfa che purtroppo quella linfa terribile che purtroppo alimenta tutti i conflitti e il male va combattuto alla fonte alla radice alla radice grazie davvero Andrea e buon lavoro grazie naturalmente a Rosanna e a Virgili noi ci rivediamo domani come sempre a 17.30 buona serata